La procura di Treviso ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in seguito alla morte ieri sera, pochi minuti prima delle 20, di Cristian Vidotto, il diciottenne di signoressa di Trevignano che ha perso la vita ad Altivole nello schianto della vettura con cui stava rientrando a casa con due coetanei, entrambi del posto. Cristian era seduto sul lato del passeggero all'altezza di San Vito lungo un tratto rettilineo di via Brioni. L'amico che era al volante ha perso il controllo della Volkswagen Golf. I primi residenti intervenuti in soccorso dei tre ragazzi hanno parlato di un proiettile finito contro i pali dell'illuminazione. L'auto si è ribaltata e Cristian è stato sbalzato fuori dall'abitacolo rimanendo schiacciato dalla vettura. Per lui, morto praticamente sul colpo, ogni soccorso è stato ormai inutile. Feriti ma in maniera lieve i due amici. Sull'asfalto i segni della lunga frenata tentata dal conducente. L'ipotesi più probabile è che l'incidente sia stato causato dall'alta velocità. L'amico che era al volante è stato ora iscritto nel registro degli indagati. I tre ragazzi che avevano frequentato l'Ipsia Scarpa erano accomunati dalla passione per il calcio. La vittima giocava nel Fulgor Trevignano, i due amici nell'Altivolese. Ieri erano reduci da una giornata di sport a Villa d'Asolo, le ultime ore spensierate prima del dramma.